Maurizio Bogliolo che innanzitutto saluto, buongiorno. Come sta andando? Qual è il problema principale? Io rappresento il consorzio della Robiona di Roccaverano, una DOP piemontese, unica DOP in Italia l'Atrica Capra Crudo e questo consorzio conta 17 produttori. Quindi come stavo dicendo, la problematica è ovviamente tramite Covid la chiusura della ristorazione che comunque era una grossa fetta del nostro prodotto, essendo un prodotto di alta qualità, molto distribuito nella ristorazione, ma soprattutto a livello pratico la chiusura dei mercati locali perché anche quella era una grossissima fetta di mercati e sarebbe una nostra richiesta di sensibilizzazione in questo senso. E quindi appunto stiamo cercando di proporre questa riapertura tra le altre cose che vorremmo fare. La situazione è molto tragica, l'85% del formaggio sta rimanendo nelle celle e molti produttori di latte buttano via il latte, arrivando anche a buttarne via a piedi lì. Come possiamo metterci in contatto con voi e soprattutto cosa può fare ogni singolo cittadino per sostenere la vostra produzione? Allora, il singolo cittadino oltre a richiedere al proprio negoziante di fiducia o anche al supermercato, perché no, la Robiola di Roccaverano DOP, può anche comunque telefonare organizzandosi magari con il condominio e cercando di racimolare diciamo tra vari amici e conoscenti in un unico punto di consegna, una trentina, 40, 50 pezzi, quelli che può riuscire a fare, chiamare il consorzio per chiedere che gli stiano recapitati. C'è un sito del vostro prodotto che si può consultare, che si può vedere? Sì, il sito è www.robioladiroccaverano.com, sulla home page potranno trovare una striscia con su scritto Covid-19, la Robiola te la portiamo noi. Cliccando su la striscia si potrà avere un elenco dei produttori e il loro modo di gestione degli ordini dentro i chilometraggi, diciamo. Quindi i produttori stanno sicuramente muovendosi e cercando di soddisfare quelle che sono le richieste dei consumatori finali e attraverso il nostro sito internet, appunto www.robioladiroccaverano.com, possono accedere a questo tipo di corpazio.